Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, domenica torna l'appuntamento con la Maratona di Roma. Partenza e arrivo saranno a Via dei Fori Imperiali per un percorso di 42 km e 195 metri che oltre al centro si snoderà tra San Paolo, Piramide, il Lungotevere, Prati e San Pietro, il Foro Italico, il Flaminio e il Villaggio Olimpico. Chiusure al traffico dalle prime ore e sino alle 15.30 di domenica. Complessivamente previste modifiche per 73 linee del trasporto pubblico durante la gara, 9 saranno sospese, 9 deviate e 55 limitate.